Buongiorno a tutti, sono Michele, sono un produttore di erbe aromatiche e ufficinali sul Monte Baldo, Brentonico. Questi sono un po' tutti i nostri prodotti. Noi ci occupiamo della coltivazione, della raccolta e trasformazione delle nostre erbe con le quali facciamo molti prodotti, come ad esempio i sali aromatizzati, delle miscele d'erbe, dei preparati per fare il brodo che sono molto interessanti e siamo qua in questa bella cornice oggi per promuovere un po' i nostri prodotti e farci conoscere meglio.